Dai procreatori di seppie da marciapiede, alcune cose non succedono per Bambera, un amore nato sul web. Un subito conoscersi. Tiffano. Amanda. Amanda, mi lasceresti il tuo numero? Certo, 02-679. Chiamami, eh, ci conto. Ciao. 679? Ma qualcosa sembrava presentare problematiche. Come mai... Mamma. Un incongruo rapportalsi. Amanda, io ti desidero come non mamma. Ma ti ringrazio. Mamma, mamma. Ok. Amanda, che c'è? Niente, per me è sufficiente. Frequenti lievi turbamenti. La nostra relazione va a quasi gonfie vele. Una serie di minuzie spiacevoli. Stringeri. Amanda, io ti amo ogni giorno di più. Complimenti. Amanda, c'ho delusione in me. Dove rintracciare le motivazioni. Dove rintracciare le motivazioni. Maccio capatonda. Pina sinalefe. Tu non mi ami. No, io ti amo. Ma ti amo di meno. Ma che cazzo dici, Amanda? Che cazzo dico? Un film di Pina sinalefe. Ti amo al 40%. Un film di Pina sinale.